ciao vi faccio vedere che cosa faccio oggi praticamente mi sono ricreata un pseudo supporto che un intreccio di rami legati con un semplicissimo fil di ferro che mi servirà da cornice ad un'opera creata e regalata e per cui una volta creata la mia base andremo a decorarla con dei fiori sintetici per fare in modo che il foglio d'arte regalato mi possa rimanere all'interno diciamo della mia senza avere una base dietro della mia cornice ho creato queste asole chiamiamole così con dei pezzi di legno attaccati l'uno all'altro dove andrò ad incastrare poi il mio foglio ok proseguiamo i colori scelti sono in azzurro rosa fucsia molto primaverili e li andrò a fissare con una spolettina di filo di ferro semplicissima quindi non attacco a silicone ma proprio lego non attacco a silicone ma proprio lego Aggiungere un po' di 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 uno Aggiungere un po' di un po' di uno Aggiungere un po' di un po' di uno Aggiungere un po' di uno Aggiungere un po' di uno